Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale In questo video vi parlo di una storia DC Comics veramente tamarra ignorante, piena di sangue, supereroi e zombie Sto parlando di DCZ, Apocalisse Zombie, storia scritta da Tom Taylor e disegnata da Trevor Ayrsine Storia che mi è piaciuta veramente tantissimo proprio perché è tamarra, ignorante, piena di sangue con gli zombie e con i supereroi Una versione, tra virgolette, alternativa dell'universo DC Comics che ci fa vedere, insomma, i più grandi supereroi della Terra cercare di fronteggiare una minaccia zombie un po' particolare Un misterioso tecnovirus si scatena sulla Terra e in pochi istanti contagia più di 600 milioni di persone trasformandole in assassini senza cervello ma con un'assoluta sete di sangue Le città cadono, siano esse sulla terraferma o sotto il mare e inizia l'Apocalisse per i pochi sopravvissuti Tra questi ci sono Superman, Batman, Wonder Woman e molti altri ma per quanto potranno resistere e potranno fermare quei supereroi che invece sono stati contagiati? Una storia molto particolare, quella scritta da Tom Taylor che ci fa vedere sostanzialmente come i nostri eroi se la caverebbero in un'Apocalisse Zombie La storia inizia con la Justice League che sta combattendo Darkseid per l'ultima volta Perché per l'ultima volta? Perché Tom Taylor ci dice che appunto questa è l'ora più alta della Justice League l'ora migliore della Justice League Darkseid riesce insomma a liberarsi dall'aso della verità di Wonder Woman e dice che sostanzialmente non tornerà più sulla Terra perché quello che cercava è riuscito a trovarlo Che cosa stava cercando Darkseid? Darkseid? Darkseid stava cercando l'altra metà dell'equazione antivita Equazione antivita della quale veniamo a conoscenza nelle pagine dopo tramite D-Sad, questo personaggio qui con il chiodo in mano che sta sostanzialmente cercando di infilzare e bloccare Cyborg E' proprio Cyborg infatti ciò che stava cercando Darkseid perché veniamo a scoprire che all'interno di Cyborg è contenuta metà di questa equazione antivita mentre l'altra metà invece è dentro Darkseid A quel punto tramite una scatola madre cercano appunto di estrapolare la metà dell'equazione antivita a distruggere Apocalypse grazie alla sua furia A quel punto Cyborg ancora vivo finisce sulla Terra e una volta finito sulla Terra i suoi sistemi vanno online Tutte le informazioni dell'equazione antivita all'interno dei Cyborg finiscono per infettare tutta la rete internet mondiale Questo porterà tutta la popolazione mondiale ad essere infettata da questa equazione antivita solo guardando uno schermo di un dispositivo connesso a internet Più di 600 milioni di persone vengono contagiati tra questi ovviamente anche un sacco di nostri beniamini Questa infezione porterà tutti coloro che sono stati infettati ad una pazzia folle a cercare di strapparsi le informazioni dalla testa e ad una sete di sangue sempre più alta Una sete di sangue non derivata dal bisogno di nutrirsi ma proprio dal bisogno di distruggere qualsiasi cosa Una pazzia dilagante che si allargerà a macchia d'olio per tutto il mondo Spetterà quindi ai nostri eroi cercare di fermare questa pazzia cercare di fermare questo virus e capire soprattutto da dove arriva questa equazione antivita Mi è piaciuto tantissimo ragazzi Devo essere sincero quando avevano annunciato questa serie le premesse non mi facevano impazzire Mi sembrava la solita storia banalissima di zombie ma leggendola vi assicuro che non è assolutamente così è molto bello vedere i nostri beniamini all'opera contro questa minaccia è molto bello vedere appunto come la fronteggiano ed è molto interessante vedere come alcuni dei nostri eroi reagiscano all'infezione di alcuni amici e o parenti Vedremo un passaggio di testimone per quanto riguarda una maschera importante di DC Comics un passaggio che mi ha fatto, devo essere sincero, non commuovere però mi ha fatto scendere una lacrimuccia perché è un passaggio che prima o poi vedremo che in realtà abbiamo già visto in altre vesti ma che in questa situazione viene reso un po' particolare sostanzialmente è una lettura consigliatissima se volete staccare il cervello dalla continuity se siete stanchi delle solite storie con Flash, Batman, Superman, Wonder Woman e la Justice League in generale e soprattutto se cercate una storia ignorante con un sacco di sangue mazzate a non finire supereroi e zombie Parliamo dei disegni di Trevor Irsine che mi sono piaciuti abbastanza devo essere sincero, mi è piaciuto molto di più sulle tavole di ampio rispiro ha saputo disegnare veramente veramente bene guardate qua tutta la Justice League schierata contro Darkseid tavola che mi è piaciuta moltissimo c'è anche un'altra tavola con Aquaman alle prese con gli zombie nel secondo capitolo vediamo se riesco a farvela vedere eccola qua molto bella, come vedete nelle tavole di ampio rispiro insomma Trevor Irsine mi è piaciuto veramente molto mentre sui primi piani se devo essere sincero un pochettino meno non mi ha fatto impazzire soprattutto per come disegna i volti perché crea, come posso dire ci sono dei primi piani con degli occhi veramente inguardabili perché sono molto distanti tra di loro e snaturano tantissimo il volto dei personaggi guardate ad esempio questa Dina Lance ragazzi c'è veramente a me non è piaciuta per nulla questo primo piano non è piaciuto per nulla i primi piani in generale di questa storia mentre insomma sulle altre tavole non gli si può dire niente perché insomma sa disegnare soprattutto nelle tavole insomma di mazzate azione se la cava veramente veramente alla grande all'interno di questo volume abbiamo anche un episodio speciale che era uscito come interludio fra la prima parte e la seconda parte di questo insomma evento di C-Comics che si chiama Un Buongiorno per Morire a Good Day to Die scritto sempre da Tom Taylor con i disegni di Laura Braga e Derrick Robertson allora Derrick Robertson tratto iconico se si può così dire l'abbiamo cominciato ad apprezzare su The Boys e insomma qui vediamo un John Constantine che sta scappando da un'orda di zombie a Londra spettacolare mentre i disegni di Laura Braga insomma non mi sono piaciuti tantissimo è bravissima sa disegnare da Dio guardate qua molto bello però se devo essere sincero insomma non tra i miei disegni preferiti in definitiva ragazzi una lettura ignorante che vi farà vedere i nostri beniamini i nostri supereroi DC preferiti sotto occhi diversi con un evento un pochettino diverso dal solito e che sicuramente non vi lascerà a bocca asciutta benissimo ragazzi questo video finisce qui grazie mille per aver guardato ricordatevi di lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate qui sotto se avete letto questa storia quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessun video noi ci vediamo alla prossima e per il momento bella lì ciao ciao